Il nuovo anno scolastico in Sicilia parte con una significativa percentuale di vaccinati, cresciuta proprio in queste ultime settimane, secondo quanto evidenzia l'assessorato regionale all'istruzione. Nell'isola solo il 5,6% deve ricevere ancora la prima dose, quindi poco più di 7.000 soggetti su una platea di 135.000 persone. Questo significa, ha dichiarato l'assessore regionale all'istruzione Roberto Lagalla, che il 94% fra docenti e personale scolastico ha contomeno iniziato il processo di immunizzazione con la somministrazione della prima dose. In Sicilia, secondo l'ultimo aggiornamento, l'84% del personale scolastico ha completato l'intero ciclo vaccinale e il 94% ha ricevuto la somministrazione di almeno una dose o della dose unica. Rispetto alla rilevazione del dato di fine agosto, le percentuali sono in aumento di quasi il 10%. Non solo docenti e personale ATA, nelle ultime settimane si è registrato anche un incremento di vaccinazioni tra gli studenti. Ad oggi, nella fascia tra i 12 e i 19 anni, il 56,6% ha già iniziato il ciclo vaccinale, mentre il già immunizzato è il 41,3%. Ai primi di agosto, la percentuale di chi aveva avuto somministrata la prima dose era al 40%. Significativo, poi, tra le nuove province dell'isola è il dato dei ragazzi agrigentini che hanno effettuato la vaccinazione. In provincia di Agrigento, la percentuale del 66,3%, segue Palermo con il 65,2%, Ragusa con il 61,8%. Fanalino di Coda, la provincia di Messina con il 44,2% di ragazzi tra i 12 e i 19 anni che si sono vaccinati. L'obiettivo della Regione e delle singole aziende sanitarie è quello di incrementare ancora queste percentuali. Gli assessori Lagalle e Razz hanno già disposto l'accesso delle USCA scolastiche negli istituti che ne faranno richiesta per promuovere le vaccinazioni sia tra gli studenti della fascia 12-19 anni, sia tra gli operatori scolastici non ancora immunizzati. I dirigenti potranno richiedere alle ASP tanto la somministrazione di vaccini a scuola quanto il monitoraggio sanitario mediante tamponi. Tutto questo affinché l'anno scolastico che sta iniziando possa procedere in presenza e soprattutto in sicurezza. Vaccinazioni che nelle scuole di Sciacca sono già state pianificate secondo un calendario concordato nel corso dell'incontro tra l'amministrazione comunale, le istituzioni scolastiche e la direzione del Lab vaccinale. All'Iceo Scientifico Enrico Fermi le somministrazioni saranno effettuate il 21 e 22 settembre, all'Istituto Amato Vetrano il 23 settembre, all'Istituto Comprensivo Mariano Rossi il 29 settembre, mentre è ancora da concordare la data della vaccinazione all'Istituto Tommaso Fazzello. In tutte le scuole della città di Sciacca, superiori, comprensivi, medi e circoli didattici, sarà effettuata una campagna di informazione e di sensibilizzazione sull'importanza della vaccinazione.